Sicuramente Formazza nel weekend attrae sempre turisti, la cascata del Tocce, le innumerevoli camminate che si possono fare, una valle molto accessibile perché fai delle grandi camminate, abbiamo le tre valli, la valle del Tocce, la valle del Vannino con la seggiovia che ti porta a 2000 metri, la valle dei Sabioni che sono mete gettonatissime di grandi e lunghe camminate, non particolarmente impegnative, però molto utilizzate. Gli alberghi nel weekend credo che lavorino bene, il nostro sfida come sempre è riuscire a lavorare dal lunedì al venerdì, su questo faremo un po' una traccia finale a fine stagione. Per ora, diciamo, sempre quando c'è bel tempo i turisti non mancano, con piacere ci vengono a trovare e con piacere fruiscono del nostro territorio, conoscono i nostri prodotti gastronomici, i formaggi innanzitutto, le patate e tutti i prodotti che stiamo cercando di recuperare legati alla nostra cultura walser. Quindi un turismo italiano ma tanti anche turisti stranieri. Sì, sì, c'è sempre passaggio anche di turisti stranieri, questo sì, ma anche perché Formazza, come sapete, è una valle aperta. Ed è sempre stato un po' il simbolo dove le Alpi non sono una marriera ma sono, diciamo, dei passaggi, un'unione di persone. Noi siamo al confine con la Svizzera, tra il Vallese con il passo del Gries e il canton Ticino con il passo del San Giacomo. Quindi questi due passi aperti aumentano quello che è l'interscambio con popolazioni che vengono dal nord Europa. Sicuramente anche i numerosi turisti del lago internazionali vengono a Formazza sia per la cascata ma soggiornano anche più giorni perché vogliono scoprire un territorio di montagna.